Meghan Markle è stata presa di mira per aver rilasciato una dichiarazione congiunta con suo marito, il principe Harry, dopo che l'Afghanistan è caduto nelle mani dei talebani il mese scorso. Il duca e la duchessa hanno affermato di essere in molti strati di dolore a causa della situazione in Afghanistan. Mentre Harry prestava servizio in Afghanistan con l'esercito britannico, i critici hanno chiesto perché Meghan avesse anche allegato il suo nome alla dichiarazione. Parlando con Express.co.uk Lee Cohen, membro anziano del think tank del Bo Group, l'ha esortata a rimanere fedele ai pettegolezzi di Hollywood, chiedendo perché le persone serie dovrebbero sintonizzarsi. Le osservazioni hanno colpito i lettori di Express.co.uk, che hanno esortato la coppia a evitare di commentare la politica mondiale. Uno ha commentato. Chi si crede di essere. Un minuto è un'attrice di livello C. Poi due minuti dopo un'esperta di affari mondiali. Sta sognando. Un altro ha aggiunto. Anche Hollywood non vuole sentirla. Se continuano per la loro strada, entrambi implodono. Un terzo ha scritto. Da un giorno all'altro, Markle passa da attrice senza piattaforma a duchessa con una portata enorme. È cambiata? No. È più qualificata? No. È un leader mondiale? No. Un quarto ha dichiarato. Sappiamo che sono leader e influencer globali perché continuano a dircelo. Fare grandi annunci su cose di cui non sanno nulla e rabbia sproporzionata contro i media che li chiamano. I talebani sono insorti in Afghanistan il mese scorso, catturando la capitale Kabul il 15 agosto. Le nazioni occidentali hanno risposto con un disperato ponte aereo. Per i loro connazionali e alleati afghani. Dall'aeroporto internazionale di Kabul. Dopo la vittoria dei talebani, i Sussex hanno commentato. Il mondo è eccezionalmente fragile in questo momento. Poiché sentiamo tutti i molti strati di dolore dovuti alla situazione in Afghanistan, siamo rimasti senza parole. Mentre tutti osserviamo il crescente disastro umanitario ad Haiti e la minaccia che peggiori dopo il terremoto dello scorso fine settimana, siamo rimasti con il cuore spezzato. E mentre assistiamo tutti alla continua crisi sanitaria globale, esacerbata da nuove varianti e dalla costante disinformazione, siamo spaventati. Quando una persona o una comunità soffre, un pezzo di ognuno di noi lo fa con loro, che ce ne rendiamo conto o no. E sebbene non siamo fatti per vivere in uno stato di sofferenza, noi, come popolo, siamo condizionati ad accettarlo.